Le sedute del 18, 19 e 20 dicembre Anagrafe degli eletti e tagli ai costi della politica Conferenza stampa di fine anno Sette giorni in consiglio Il Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre ha approvato in seconda lettura la legge di modifica statutaria per la riduzione del numero di consiglieri e assessori. Il 19 dicembre ha approvato la legge che porterà risparmi per 4 milioni di euro al bilancio del Consiglio. Nella mattinata del 20 dicembre il presidente Valerio Cattaneo ha comunicato che il presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio provvedimento, ha stabilito la sospensione di Michele Giovini da consigliere regionale, sostituito temporaneamente da Sara Franchino, prima dei non eletti. In una pausa dei lavori, i componenti dell'ufficio di presidenza della Giunta e numerosi consiglieri hanno ricevuto una delegazione di dipendenti di enti pubblici regionali sul problema degli esodati. Nel pomeriggio l'Assemblea ha proseguito l'esame del provvedimento sull'anagrafe degli eletti e ha approvato le modifiche allo statuto del CSI, che permetteranno di ricevere affidamenti e commesse dal resto d'Italia e dall'estero. Ha poi votato la relazione della Commissione di inchiesta urbanistica e ha approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale. In evidenza. Il Consiglio regionale ha lavorato e ha prodotto leggi con riforme importanti, come quella della sanità, come quella degli enti locali. Abbiamo approvato una legge di riforma per le aspettanze ai consiglieri, che sono state fortemente ridotte, anche la nuova legge sui gruppi, con regole più chiare, meno largheggianti. E oggi approveremo l'anagrafe pubblica degli eletti, in modo che su internet, sito della regione, sito del Consiglio regionale, ci sarà tutto del consigliere e dell'assessore regionale. Un bilancio sull'attività del Consiglio regionale, che nel 2012 ha approvato 13 leggi e svolto 131 sedute d'aula, per un totale di 74 giornate di lavori. Questo il tema illustrato dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e dall'Ufficio di Presidenza il 20 dicembre, durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Un 2012 che ha visto il Consiglio regionale del Piemonte all'avanguardia sulla parte informatizzazione, dematerializzazione, quindi niente più carta, tutto online, utilizzando il computer, via anche la parte cartacea dei procedimenti legislativi, le leggi sul wifi libero, sull'open data. Quindi un Piemonte all'avanguardia su questo settore, insieme a tutte le altre cose che sono state fatte, dette dal Presidente Cattaneo, mi fa piacere ricordare tutte le iniziative legate alla resistenza e alla Costituzione. La direzione è quella della chiarezza, della trasparenza e del contenimento dei costi. Noi però confidiamo come istituzione, come regione, in una cosa superiore, che è quello del rilancio del nostro territorio e quindi rilancio delle nostre imprese e sostegno alle imprese. Noi abbiamo delle eccellenze in Piemonte, meritano il nostro sostegno e ci auguriamo che ci possa essere anche un supporto da quello che è il mondo creditizio e finanziario, perché senza il sostegno e l'aiuto delle banche questo diventa assolutamente difficile. Focus. Nella seduta del 20 dicembre il Consiglio regionale ha iniziato l'esame della proposta di legge sull'istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi consigliari. Finalmente il Consiglio regionale del Piemonte approva l'anagrafe degli eletti. Questa è stata la nostra prima proposta di legge all'inizio legislatura. Ci arriviamo a metà mandato e dopo quello che è stata la spinta nazionale. Siamo contenti che siano state accolte quasi tutte le nostre istanze e in particolare anche rendere pubblici gli incarichi di ciascun consigliere in una chiaramente richiesta di massima trasparenza. Una legge importantissima che tutti attendevano è l'anagrafe degli eletti. Qualcuno ha detto che siamo arrivati tardi e noi siamo contenti di essere comunque arrivati anche perché in questo momento arrivare con tutti questi dati dimostriamo che non abbiamo timore di rapportarci con i cittadini e con tutti attraverso una informazione che è valida per loro per conoscerci ed è valida anche per noi per farci conoscere. Approvata la legge che con i tagli e le indennità porterà risparmi considerevoli al bilancio del Consiglio. Il testo che dà attuazione al decreto legge in materia prevede importanti riduzioni. L'indennità di carica dei consiglieri passa a 6.600 euro lordi adeguata a quella della regione definita più virtuosa a livello nazionale, l'Emilia-Romagna. Vengono eliminati rimborsi chilometrici e gettoni di presenza. Il complesso degli interventi porterà un risparmio di 4 milioni di euro all'anno e con i tagli approvati con gli altri provvedimenti il bilancio passa da oltre 80 milioni di euro d'inizio della legislatura agli attuali 60 milioni. Il Consiglio regionale ha approvato con votazione definitiva 43 favorevoli e 1 contrario la riduzione del numero dei consiglieri da 60 a 50 e degli assessori da 14 a 11. Trattandosi di una modifica statutaria è stata necessaria una seconda votazione a distanza di almeno tre mesi dalla prima avvenuta lo scorso 3 ottobre. La nuova norma statutaria entrerà in vigore con l'avvio della prossima legislatura. La prima commissione ha approvato in sede legislativa, all'unanimità dei votanti, la modifica alla legge regionale che scioglie le comunità montane. Si consente la continuità dell'erogazione dei servizi ai cittadini e il rapido passaggio del personale dagli enti ai comuni erogatori. La terza commissione, sempre in sede legislativa, ha approvato all'unanimità dei votanti le modifiche alla legge regionale sul commercio per rafforzare le norme che tutelano in maniera specifica il commercio ed i commercianti di prossimità. Si è conclusa oggi, con la 47esima seduta, la commissione speciale d'inchiesta sull'urbanistica. Il documento finale, che ha rappresentato una sintesi frutto dell'analisi che si è operata in queste sedute sui vari comuni che sono stati prescelti il più delle volte a campione, è stata votata all'unanimità dalla commissione. È già inserita all'ordine del giorno dei prossimi consigli e ci auguriamo che possa essere votata anche all'unanimità in aula. Dopo 47 sedute, la commissione speciale con compiti di inchiesta sulla gestione urbanistica, preseduta da Andrea Buquicchio, vicepresidente Daniele Cantore e Gianna Pentenero, ha concluso i suoi lavori il 17 dicembre. In breve. È stato approvato nell'ultimo ufficio di presidenza la partecipazione di Consum Torino all'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. E in questo non posso che esprimere vivo apprezzamento perché l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura si confà anche di questa associazione per la lotta contro il fenomeno dell'usura e il gioco d'azzardo che purtroppo da parte dell'attività criminale è alto nella nostra regione. Costituito da esponenti delle fondazioni anti-usura piemontesi, dal prefetto di Torino, dai rappresentanti delle forze dell'ordine, dalle associazioni dei consumatori e da esperti nominati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'Osservatorio, presieduto dal consigliere segretario Tullio Ponzo, agisce per impedire che l'usura rimanga una piaga nascosta e a tal fine svolge attività di studio e divulgazione attraverso convegni, borse di studio, pubblicazioni e una costante opera di formazione e informazione nei confronti degli studenti degli istituti scolastici del Piemonte. E' Chiara Tavella con la tesi intitolata Contributo alla biografia letteraria di Sant'Oro di Santa Rosa, una commedia inedita, la vincitrice del premio Gianni Oberto intitolato alla memoria del presidente provvisorio del Consiglio regionale nella seduta di insediamento nel 1970 e poi nel 1973, nuovamente presidente del Consiglio regionale e poi presidente della Giunta fino a fine della prima legislatura. Premiati a Palazzo Lascaris anche il secondo classificato Roberto Valerio, l'antroponimia di Valperga nel XVII secolo e il terzo, Sara Lorenzetti, ricordare e raccontare memorialistica e resistenza in Valdossola. Un attestato di merito è andato a Guido Battista Raschieri, senso e identità del termine popolare, alcune prospettive di indagine etnomusicologica, la riproposta di repertori musicali tradizionali in Piemonte. Il mio lavoro ha preso in considerazione un manoscritto inedito di Sant'Oro di Santa Rosa intitolato Il marito geloso è una commedia in tre atti scritta in prosa che non è mai stata considerata dai critici o meglio è sempre solo stata considerata marginalmente e il mio lavoro si poneva come fine la trascrizione di quest'opera e il suo commento per mostrare appunto alla critica che in realtà Sant'Oro di Santa Rosa non è semplicemente il patriota, le esule e il martire dei motivi rivoluzionari in cui perse la vita ma ha anche un enorme valore dal punto di vista letterario. Rimane aperta fino al 16 gennaio nella Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale la mostra pittorica Aspetti del Piemonte realizzata dall'Associazione Amici dell'Arte di Pierenza. All'inaugurazione il 17 dicembre il Presidente dell'Associazione Francesco Gollini introdotto dal Direttore della Comunicazione dell'Assemblea regionale Rita Marchiori ne ha illustrato contenuti e finalità offrire attraverso una trentina di opere a tecnica mista uno sguardo suggestivo sul Piemonte e sulle sue meraviglie. A cura della consulta femminile regionale presieduta da Maria Agnese Vercellotti si è svolto a Palazzo Lascaris l'incontro con le Presidenti delle Associazioni Femminili del Piemonte presente anche il Consigliere Segretario Gianfranco Novero delegato ai rapporti dell'Assemblea regionale con la consulta femminile. Gli alunni della Scuola Materna Bellardi di Torino hanno visitato alla mostra i personaggi del presepe allestita nella biblioteca della regione. Nella visita hanno incontrato Babbo Natale e hanno invocato le letterine nell'apposita cassetta messa a disposizione da posti italiane. Ad accogliere i giovani visitatori anche il Vice Presidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba. Tanti auguri a tutti i bambini del Piemonte e buone feste a tutti e anche i loro genitori. Auguri, 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 auguri. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.